Benvenuti da Bruno Pizzol allo stadio di Saitama, anche se si tratta solo di un amichevole, ci attendiamo moltissimo da questo incontro. Il suo senso è un'esplosione di Bairon Torre. Passa lateralmente con il tocco potente. Il sembra che si tratta di un'esplosione. Lo ha steso. Questo è un'esplosione di Bairon Torre. La Bairon Torre è presente un'esplosione di Bairon Torre. E' un'esplosione di Bairon Torre. Colpisce la palla di testa Recupera la palla con un intervento deciso Passaggio breve Passa Gioca in sicurezza Passa al compagno Agganza la palla in scivolata Vieri Teicl vincente Ha provato a controllare con la mano Passa la palla Zemini Calcio d'angolo, la palla è uscita Facile parata per il portiere Mediocre tentativo di Teicl Zanini Zamboni Vince il contrasto e recupera palla Passaggio nella fascia centrale Colpo di testa È intercettato Il Teicl in scivolata non ha funzionato Il suo avversario si è allontanato con la palla Baldini Ha mancato completamente il versario Rimane al centro Questo fischio segna la fine del primo tempo Le due squadre si sono annullate fino ad ora Speriamo che nel secondo tempo la situazione cambi Secondo tempo iniziato Iniziato La palla è fuori Calcio d'angolo La colpisce di testa Ha costruito il gioco con una serie precisa di passaggi Oggi è sicuramente il miglior giocatore in campo Pericolo scampato Rimessa dal fondo La tocca di testa Porto passaggio in avanti Passa al compagno L'arbitro si sta avvicinando Ha cercato di ingannare l'arbitro E tutto quello che ha ottenuto è stata un'amunizione Colpo di testa Corto passaggio per portare avanti la palla Passa È rimessa dal fondo Colpo di testa in avanti Ecco un passaggio corto e laterale Serve il compagno Tiri C'era quasi Sarebbe potuto diventare l'eroe del giorno con questo tiro Passaggio di testa in avanti Vince il contrasto Intervenire in area di rigore è sempre molto pericoloso Colpisce la palla di testa Non è stato possibile stabilire un vincitore nei tempi regolamentari I supplementari sono quindi inevitabili Gioca la palla in avanti Prova a tirare Facile presa del portiere Serve il compagno Intervento preciso e pulito Passa Tira Blocca in sicurezza Rinvio dal fondo Lo spettro dei rigori si avvicina Per evitarlo resta solo il secondo tempo supplementare Zanini Fantastico Non ci sono altre parole Fantastico Il portiere non si è toffato in tempo Passa Prova il tiro Gol Una giocata perfetta Si è meritato il gol Zanini Riconquista palla Dopo oltre due ore di gioco non è stato possibile stabilire un vincitore Quindi ci attende una drammatica conclusione ai rigori Spiazza il portiere e segna senza problema Quando vedrà il replay non potrà che vergognarsi di questo tiro Oh cielo Un errore clamoroso Non può che essere deluso da questa conclusione Un errore clamoroso Un vero professionista Non si è lasciato prendere dal panico e ha segnato con tranquillità Ha fatto il suo lavoro trasformando rigore Ha segnato rigore superando con tranquillità il portiere Inguardabile Ecco com'era questo tiro Ogni giocatore sogna di realizzare il gol decisivo E oggi lui c'è riuscito Grazie per essere stati con noi fino ad ora Arrivederci alla prossima partita